Raz de Ganna è scioccato, distrutto, annientato dalla violenza. Lui, nato e cresciuto in un kibbutz israeliano, una comunità agricola a gestione collettiva, non riesce a credere a quel che accade. Con gli occhi lucidi commenta gli atti terroristici compiuti dalle squadre di Hamas, che hanno ucciso e rapito civili di ogni età. A Verissimo dice, in Israele giorni da incubo, mio padre non vuole lasciare il kibbutz evacuato. Sono giorni orribili per l'umanità intera. Per noi in Israele sono giorni da incubo, dall'olocausto non abbiamo mai vissuto qualcosa di così grave. Ho sempre collaborato per la pace e mi sono impegnato in progetti di solidarietà, ad esempio per i bambini della Siria. E vedere che la pistola e la spada sono purtroppo più forti della voce del cambiamento, fa male all'anima, sottolinea il modello, attore e regista che da tempo vive in Italia, in Puglia. Mio padre ha 80 anni e anche se il nostro kibbutz è stato evacuato, lui non lascia la casa. Non vuole andarsene, dice che quello è il suo posto. Una nostra parente di 22 anni non è tornata a casa, è già passata una settimana e i genitori non sanno dove sia, se sia viva o morta. I cadaveri sono così tanti e non si riescono a distinguere i volti, tanti sono stati bruciati. Ogni giorno mi chiamano amici per raccontarmi atrocità inimmaginabili. Tutto questo è al di là della politica, al di là dei diritti. Questo è l'incubo infernale del terrore, racconta il 55enne. La sua sorellastra con i quattro figli è riuscita a trovare un volo e sta venendo in Italia. Ma gli uomini vogliono rimanere lì, non vogliono abbandonare il loro paese, aggiunge. Parla del suo kibbutz, è come un grande campeggio, in cui vivono diverse famiglie che lavorano insieme e dividono quello che producono. Il nostro kibbutz si trova a nord, al confine tra Siria e Libano. Lo hanno fondato i miei nonni, che erano sopravvissuti dell'olocausto. Durante l'infanzia spesso stavo chiuso nel bunker, perché al nord c'erano tante guerre. Ricordo la prima volta che ho sentito il fischio di una bomba, non sai da dove arrivi e poi l'esplosione è tremenda. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.